Ciao amici di Italia Top Games, allora visto il grande interesse che c'è per Football Manager 2022, ancora di più per il cloud. Perché? Perché tanti giocatori ad esempio non hanno una console Xbox, o non hanno un PC particolarmente potente, ma vorrebbero giocare con Football Manager 2022 con una versione diciamo più evoluta di quella mobile. Ed eccola qua, Football Manager 2022 Xbox Edition in cloud. Quella che state vedendo appunto è la versione cloud giocata su PC, ma che se vorrete potete giocare anche sul vostro smartphone, se rispetto ai requisiti del cloud gaming di Xbox Game Pass. E il gioco non costa nulla se vi abbonate appunto Xbox Game Pass. Allora, volevo mostrarvi un po' tutto, anche la velocità dei caricamenti e tutto quanto. Allora, intanto vado un po' avanti su queste cose, poi vediamo anche come si visualizza la partita. Ecco, intanto vediamo che la velocità del cambio dei passaggi è velocissima, quindi va bene così. Questo qui adesso, va bene, andiamo avanti. Questo confermiamo tutto, sì. Prossima notizia. Volevo arrivare alla partita. Sono andato oltre questa sfida che c'è per quanto riguarda il rimanere in Serie A, perché questa è la situazione di questa sfida con il Cagliari. Iniziamo la partita e vediamo un po' anche come si visualizza il gioco. Sono curioso di vedere la qualità grafica. Ecco qui, spezia Cagliari. E vediamo un po' come va. Allora, intanto voglio vedere azioni chiave. Facciamo sintesi estesa. Ecco. Allora, ma a me pare che la qualità grafica sia uguale, ovviamente non ci sono i 4K, ma il cloud riesce a gestire tutto molto molto bene. Ecco, giochiamo. C'è sempre un po' quella sensazione un po' sgranata del cloud gaming, ma non mi sembra un grandissimo problema. La cosa è che mi sa che io avevo giocato con lo spezia, adesso mi ritrovo a doverla rigiocare. Vabbè, ma tanto è solo una prova. Comunque a me mi sembra che sia tutto funzionante in cloud perfettamente. Non vedo davvero rallentamenti, vedo tutto funzionare perfettamente. Quindi con il cloud non c'è bisogno di avere un hardware particolarmente esoso. L'importante è avere una buona connessione. Io lo ripeto, la mia connessione è una 200 MB. Sulla carta, nella realtà, va sostanzialmente a 90 MB. E 20 MB di upload. A volte per caricare i filmati è un pianto, sostanzialmente. Detto questo, a me sembra che davvero la qualità sia piacevole. Ecco, lo spezia stava segnando, ma il cranio è stato bravissimo. Ecco, l'unica cosa, sto vedendo, che il gioco, anche su PC, non utilizza il mouse, perché è come se stessimo giocando su Xbox. Questo, come dire, può essere o meno una cosa che piaccia o meno, però è giusto che ve lo dica. Qui c'è il tablet a bordo campo che vi consente di vedere delle cose, o potete anche toglierlo, ecco, così vediamo bene la partita. Anzola, cosa si è mangiato? Andata bene, andata bene. Però ragazzi, devo dire che è veramente fluido e penso che su mobile sia più o meno la stessa cosa. Quindi, ecco, visto che in tanti mi chiedevano come poter giocare, pur non avendo Xbox, con il cloud e con l'abbonamento a Game Pass Ultimate, potete giocare a Football Manager senza alcun problema. Ovviamente l'unica cosa dovete acquistare è l'abbonamento di Game Pass. Nella descrizione del video, se volete, c'è il link all'acquisto del Game Pass su Amazon e così supportate i nostri sforzi per il canale, per i blog, e a voi non costa un centesimo di più rispetto a quello che acquistereste senza passare per il link di affiliazione. Avete visto un attimo, c'è stato quello sfarfallio, quelle sono cose da cloud, per così dire, appunto, che nel gioco normale non accadono. Ma, sinceramente, è un prezzo decisamente non troppo elevato da pagare per una qualità di gioco che sostanzialmente non delude affatto. Intanto finiamo a vedere la partita, per vedere come finisce. eccoci qua, siamo al 0-0 nel primo tempo. Strootman d'Albert, avanza d'Albert. Ai ai ai. Questa è la visuale regista, così abbastanza in movimento. che per l'altra volta su Xbox finì, mi pare, con un risultato incredibile. Oggi è uno 0-0 piuttosto scialbo, ma non è detto che finisca così. I voti dei giocatori sono abbastanza buoni, quindi per il momento, anche se... Ecco, gol dello Spezia. Che gufone che sono! C'è Nandez che è molto stanco, così come fa Ries. E mi sono beccato anche il gol. Adesso vado su mentalità. Così offensiva. Se riusciamo a pareggiare almeno. Bravo Nandez, vai! Ah! Dai, però... Lo vedo molto, molto... Preso il Cagliari dal pareggio. Ma... Ci siamo andati vicino. Speriamo di riuscire... Sì, 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 facciamolo. Ecco, fallo. Sostituiamo. Dai, ragazzi, cerchiamo di pareggiarla almeno. Vai, Nandez. Vai, Pedro. Vai, Giovao, Giova, Giova. No, no. Altro corner. Carboni. Vai, ragazzi. Fai Ries. Ries. No, no, Carboni, no. No. Cambiamo Nandez che è stanco. Fallo, anche se è tardissimo. Si può cambiare, ovviamente, la velocità del gioco. Dai, ultima azione. Farias. Carboni. Forza fuori gioco, Carboni, mannaggia. E mi sa che abbiamo perso anche questa. Adesso mi sa che questa sfida del Cagliari me la faccio seria, seria, però non così rapidamente come ho fatto per fare i filmati. Eccolo qui. Fine del match. Vediamo i tempi con cui salva. Ragazzi, è ottimo in cloud. Davvero ottimo. Vado a vedere un salvataggio. Devo rispondere. Conferma. Allora, vediamo. Salviamo qui. Salva partita. Wow, velocissimo. Ma, guardate, è veramente un'opportunità buona. Se non avete Xbox e volete giocarlo, potete giocarci tramite il cloud del Game Pass, su PC, su smartphone, su tablet, dove volete. Il Game Pass si può acquistare mensilmente, trimestralmente. Li vedete i prezzi dopo, se volete andare sul Game Pass, su Amazon. E sono gli stessi, ovviamente, che potete prendere anche direttamente tramite il Microsoft Store. Che dirvi? Mi sembra un'ottima possibilità, appunto, per giocarci, anche se non avete una console Xbox. O non avete un PC particolarmente performante da un punto di vista del gaming. Che dirvi? Il cloud gaming è una buona soluzione se volete giocare a Football Manager 2022. Poi io, in privato, mi rifaccio questa sfida col Cagliari in modo più attento, mettendo a posto tutte le cose, perché mi ha iniziato ad appassionare davvero questa sfida del gioco. Bene, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!